Sono diversi gli interventi sulla viabilità che il Comune di Teramo ha messo in campo negli ultimi mesi. Lavori che stanno comportando diversi disagi agli automobilisti come il rifacimento del manto stradale lungo la principale arteria d'ingresso ed uscita dalla città. Nella giornata ieri finalmente è stato riaperto a doppio senso di marcia a Ponte San Gabriele, dove l'Anna sta svolgendo interventi importanti antisismici e dimessi in sicurezza da alcuni mesi. L'apertura che ha dato immediato sollievo al traffico nelle ore di punta, in particolare all'uscita degli studenti dalle scuole. Stiamo finendo, stiamo ultimando di fare gli asfalti su Via Pola, l'assessore di Buonaventura ha lavorato veramente due giorni consecutivamente. Speriamo che il tempo ci aiuti perché gli asfalti ovviamente meritano una temperatura diversa rispetto a quella attuale. Per quanto riguarda Ponte San Gabriele, ieri insieme ad Anas, il capo compartimento Abruzzo che è venuto a trovarci, anche a fare il punto della situazione, è stato deciso di riaprire il ponte, la parte superiore a doppio senso di marcia. Ovviamente è un lavoro di Anas, non è un lavoro del Comune, ma abbiamo lavorato tutta la mattinata anche per definire degli aspetti che possono sembrare secondari, ma che tecnicamente sono dei lavori che devono essere ultimati nella parte sottostante, alcune interferenze che ci sono, la decisione sulla segnaletica di sicurezza da realizzare sulla parte stradale superiore, il rifacimento e la sistemazione delle balaustre metalliche, quindi dei parapetti metallici. Quindi c'è stata un'intensa attività propositiva sia da parte di Anas sia da parte nostra, la presenza dell'impresa che esegue i lavori e che quindi tecnicamente ha portato a poter definire un'altra giornata importante per Teramo perché Anas si è resa disponibile a fare lavori che tecnicamente poteva anche dirci che non erano di loro competenza. Ci sono da fare ancora ulteriori lavori e quindi ci saranno anche degli ulteriori disagi perché nel momento in cui si rifaranno i giunti del ponte qualche problema alla viabilità si creerà. Qualche mese fa avevate annunciato i lavori sulle rampe di accesso della Teramo Mare, lì che situazione c'è? I lavori sono tecnicamente già iniziati perché il rifacimento del tratto di strada che era praticamente dove c'è stato il distesso idrogeologico, i lavori sono in corso, quei lavori sono propedeuci all'inizio delle rampe. Devo dire che in settimana, credo insieme a strada dei parchi, faremo una conferenza stampa proprio per definire, per fare il punto alla situazione e quindi indicare la tempistica di questi lavori. Parliamo di oltre 5 milioni di euro sulle 5 rampe di accesso e di uscita alla Teramo Mare che non sono di poco conto, che è un altro passo verso la messa in sicurezza della nostra città.